Siete caricati per la domanda? Sì. Allora hai una scelta, preferisci tornare con la tua ex o preferisci fare la vaccina? Perché la ex? Perché mi sono trovata bene, il vaccino non è sicuro secondo me. Ah, quindi pensi della tua ex? Con il vaccino, delle due il vaccino. Perché la vaccino? Perché la ex no. Non puoi tornare con la tua ex, quale è il motivo? Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Bella, bella, siamo con? Estella. Stella, bel nome. Lucrezia. Intanto siete molto carini. Grazie. Siete caricati per la domanda? Sì. Allora hai una scelta, preferisci tornare con la tua ex o preferisci fare la vaccina? Assolutamente con l'ex. Tu? Vaccino, non si torna mai con l'ex, il piatto riscaldato fa schifo. Qual è il motivo? Puoi spiegare un pochettino? Dai, perché ragazzi allora, se sono ex c'è un motivo, vuol dire che non ha funzionato. Quindi, cioè, perché ritentare? Tra le due faccio il vaccino che almeno posso girare per il mondo. Esatto, sì. Tu invece? Io invece preferisco tornare con l'ex perché vaccino non sono nell'idea io. E poi, vabbè, l'idea dell'ex comunque, anche secondo me non è bello tornarci perché c'è un motivo se sei un ex. Ma io penso che la vaccina è arrivata per salvare gente, no? O cosa pensi tu? Io invece sono dell'idea che, vabbè. Ma quindi ancora pensi la tua ex o cosa? Quindi io con l'ex ci tornerei perché alcuni magari una seconda chance ci sta. Ma ancora senti lui? Sì. Un pochettino? Diciamo che la situazione è un po' così, però... Buona, dai, ci sta. Ci sta, ci sta. E lei è un grande famoso su TikTok, poi a pubblicare il suo nome di TikTok per fare un po' di follower. Vuoi fare un po' di follower su TikTok? Sì. Come ti chiami su TikTok? Eh, stella Pezzini, un po' di... 4i. Va bene, mi raccomando andate a seguire tu invece. Su TikTok? Sì. Io TikTok ragazzi non lo uso, io lo guardo e basta. Bella, bella, oggi siamo con... Sakao. Sei di... Originaria della Thailandia, però vivo a Bologna. Buona ci sta, tu invece? Io sono Federico, in arte Maze, sono in Bologna e sono un DJ produttore. Buona, siete caricati per la domanda? Sì. Allora, tu... La domanda di oggi è molto semplice. Tu preferisci fare la vaccina o preferisci tornare con la tua ex? Hai una scelta? Con il vaccino, delle due il vaccino. Perché la vaccina? Perché l'ex no. Non puoi tornare con la tua ex? Qual è il motivo? Perché no, perché sono fidanzata adesso con questo bellissimo ragazzo e quindi l'ex proprio no. Piuttosto il vaccino. Buona, tu invece? Io invece mi sono già vaccinato, quindi l'ex direi che la lasciamo dov'è e stiamo bene così. Spero che vada tutto bene col vaccino, ma tanto non si assicuri mai di niente in questa vita. Quindi non puoi tornare con la tua ex? Preferirei proprio di no, anche perché sta con il mio ex miglior amico, quindi direi che si sono già trovati abbastanza bene tra di loro. Ah, sì, dopo l'amore senza guerra. Esatto, tutti in amore, tutti in pace. Buona, buona, ci sta. La ringrazio a voi. È un piacere, ciao ragazzi, buona fortuna. Ciao. Tu invece perché la vaccino? No, io ho detto ex. Perché la ex? Perché mi sono trovata bene. Il vaccino non è sicuro, secondo me. Ah, ok. Quindi pensi della tua ex? No, non lo penso più, però mi sono trovata bene. Quindi preferisci tornare con la tua ex e non preferisci fare il vaccino, allora? Sì. Ma quale è il motivo? Perché il vaccino secondo me non è sicuro al 100% e invece con il mio ex mi sono trovata bene. Buona, buona, perché tu vaccina? Eh, l'ho già detto, perché l'ex non è... Quindi tu fida il vaccino, quindi salvano la gente, no? Sì, è un canoso. Tanto è una puntura, un passo. È un solo una puntura. Buona, ringrazio a voi. Bella, bella di Bolsano City. Ciao. Siamo con chi? Valentina. Valentina, bel nome. E' Tobias. Piacere, siete caricati per la domanda? Sì. Allora tu preferisci fare il vaccino o preferisci tornare con la tua ex? Vaccino, il vaccino. Vaccino, perché il vaccino? Perché il mio ex è stra brutto. Stra brutto? Sì. Mamma mia, tu? Beh, anche io farei il vaccino. Vaccino, qual è il motivo? Beh, la stessa cosa come da lei, no? L'ex non è una persona bella. Ma quindi cosa ha fatto la tua ex se non puoi tornare con lui? Lei? Eh, appunto. Ma puoi spiegare quale è il motivo che tu non puoi tornare con la tua ex? Perché? Puoi fare il vaccino. Perché non è bella. Beh, perché è brutta. Ma perché puoi fare il vaccino? Io non capisco. Perché tu puoi fare il vaccino? Ti piace il vaccino allora? Sì, io farei il vaccino. Hai già fatto? No, non ancora. Ma puoi fare? Sì. Buona. Perché tu puoi fare il vaccino e non vuoi tornare con la tua ex? No, beh, lo voglio fare perché si fa il vaccino adesso anche per... Andare in giro, fare viaggi e non vorrei tornare con il mio ex perché alla fine lui mi ha lasciata e niente. Ma sei molto bella, come mai lui è lasciata così? Eh, devi chiedere. Qual è il motivo? Devi chiedere a lui. Va bene, la ringrazio. Niente. Bella, bella di Trentino, siamo con... Angela. Angela, bel nome. Sofia. Intanto siete molto carini. Grazie. Siete caricati per la domanda? Certo. Allora, tu preferisci fare il vaccino o preferisci tornare con la tua ex? Con il mio ex, tutta la vita. Tu invece? Con il mio ex. Perché con la tua ex? No, perché... Non lo so perché. Quindi hai paura del vaccino o cosa? No, sì, anche. Cioè, credo sia inutile per noi. Ma ancora pensi alla tua ex o no? Sì, un pochino, un pochino. Andare, e tu invece? No. Yo, yo, bella, bella di Bolsano One, siamo con chi? Andare e puoi presentare. Eh, ciao, sono Fiona. Piazza. 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 Emilia. Giorgia. Nora. Siete caricati per la domanda? Sì. Allora, partiamo con... Tu preferisci tornare con la tua ex o preferisci fare il vaccino? Io mi lascerei vaccinare. Preferisci fare il vaccino? Sì. Perché non puoi tornare con la tua ex? È un po' difficile. Dai, puoi spiegare un pochettino? No, no. Un pochettino. Ma come no? No. Tu invece? Eh, no, anch'io andrei a fare il vaccino. Ma perché? Eh, no, con la mia ex no. Con la tua ex non puoi tornare? No. Ma cosa è successo con... Non puoi tornare con la tua ex? Eh, no, 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 non lo spiego adesso. Dai, puoi spiegare anche un pochettino, no? Un pochettino. No. Chiedi a loro. Voi invece? Ex. Ex? Perché ex? Ah, preferisci tornare con la tua ex perché non ti piace il vaccino? Beh, perché no. Ma io penso che la vaccino è arrivata per salvare, no? Per salvare il covid. Si può essere. Può essere, ma anche io non lo so. Perché non puoi fare il vaccino, puoi tornare con la tua ex. Puoi spiegare un pochettino. Eh, non so. Perché... Beh, aspetta. Quindi ancora pensi la tua ex? Non ce ne ho. Dai, puoi dirlo. Non ce ne ho. Non ce l'ha ex? No. Mai finanzato? No. No? No. Quindi esempio, tra tua ex e il vaccino, tu torna con la tua ex? Sì, con l'aria. Va bene, e tu invece? Io mi lascierei vaccinare. Perché? Perché no, non voglio tornare. Non vuoi tornare dietro? No. Quindi preferisci fare il vaccino? Sì. Ma qual è il motivo? Puoi spiegare perché non puoi tornare con la tua ex? No, no. Manca un pochettino, se non spiega tanto, puoi spiegare solo un pochettino, no? Voglio. Solo poche, due parole? No, no. Niente da dire. Va bene, grazie a voi. Grazie. Bella, bella di Bolzano One, siamo con? Giulia e Caterina. Siete caricati per la domanda? Sì. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Partiamo con te. Tu preferisci fare il vaccino o preferisci tornare con la tua ex? È una scelta. Beh, il vaccino. Mi vuole tornare con la tua ex. Ma perché? Eh, perché non si può dire. Sono cose che non si possono dire. Quindi non vuoi tornare con lui più? No. Quindi ti piace fare il vaccino? Sì? Piuttosto sì. Buona, invece tu? Io ho paura degli aghi, eh. Quindi... Va bene. A me va benissimo l'ex. Va benissimo con l'ex? Sì, sì. Perché quale è il motivo? Dai, puoi dire, no? No, no, va bene così. Quando ancora pensi a tua ex, allora? Più o meno. Più o meno ancora pensi a lui? Sì. Perché non vuoi fare il vaccino? Puoi spiegare il motivo. Perché mi piace ancora l'ex? Va bene, grazie a voi. Grazie. Bella, bella di Bolsano City. Siamo con? Davide. Yare, no? Yusef. Siete caricati per la domanda? Carichissimi. Allora, partiamo con te. Tu preferisci fare il vaccino o preferisci tornare con la tua tipa? Io preferisco fare il vaccino. Sempre vaccino, sempre. Quindi ti piace il vaccino, allora? Sì, mi piace tantissimo. Perché non puoi tornare con la tua tipa? No, è di obbligo. Non si può tornare con la... Quale motivo? Puoi spiegare un poccino? Eh, perché non si butta... Non si va mai a riprendere la spazzatura che hai buttato, mai. Non si può fare. Mamma mia, è incredibile. E io ho già fatto il vaccino, quindi andrebbe bene l'ex. Quindi preferisci tornare con l'ex? Sì, sì. Perché ho ancora appreso il tuo ex, allora. Eh, non ci penso, però avevamo un bel rapporto. Ancora pensi lui molto? No, no. Ma perché preferisci tornare con lui? Ma io ho già fatto il vaccino, quindi... Quindi tutti e due ci va bene. Dai, tu invece, grande? Cosa sono io? Grande boss. Grande boss. Preferisci fare il vaccino o preferisci tornare con la tua ex? Io? Io brucio il vaccino intorno con mia madre. Scusa mia ex? Sempre la mamma, ragazzi. Sì, però... Ma preferisci fare il vaccino o preferisci tornare con lui? E lei? Sì, è una scelta. Tornare con l'ex? Perché ancora pensi lui? Non mi uccida. Ma io penso che il vaccino è arrivato per salvare gente, no? Semplicare Covid. Che paura. Secondo me il vaccino è arrivato per salvare gente oggi, o non è vero? No, secondo me Covid può uccidere anziani. Quindi preferisci tornare con la tua ex? E ridete anche voi. Quindi preferisci tornare con la tua tipo? Sì. Bella, bella di Bolsano One, siamo con... Hanna. Alejandra. Sara. Siete caricati per la domanda? Sì. Che fatti in giro qua? Un casino. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. È una scelta, preferisci tornare con la tua ex o preferisci a me? Fare il vaccino. Fare il vaccino. Perché? Perché mi fa schifo quella persona. Quindi non vuoi tornare con la tua ex? No. Che senso? Puoi spiegare un pochettino. C'era vero picco? Perché, sì. No, 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 vieni, vieni, spiegami. No, non facevo di serio, mi insultava sempre. Buona tu invece? No, io piuttosto mi sparo in fronte. Vuoi tornare con la tua ex? No, perché è troppo bambina, sai. Troppo bambina? Sì, non capisce le cose ancora come stanno. Tu preferisci fare il vaccino? Sì, ma mi sparo, altro vaccino, mi sparo in fronte. Ma qual è il motivo? Puoi spiegare un pochettino? Eh, perché, sai, pensava di essere migliore di me, di capire tutto, ma non era così. Ma perché tu hai detto la tua ex e ancora non capisci niente? Che senso? Eh, io l'ho detto, ma lei, infatti, non capisco. Che senso? Non capisci qual è? Che è tutto, non capisci come funziona una relazione. Capito? No, dai, invece tu. Vaccino, vaccino. Perché la vaccina? Perché non mi interessa, cioè, non mi interessa le persone vecchie. Quindi preferisci fare il vaccino? Sì. Perché non puoi tornare con la ex? No. Puoi spiegare il motivo? No, 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 meglio di no. Meglio di no? Yeah, 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 I'm a hustler, baby, I'm a hustler, baby, yeah, I know heartbreaks, setbacks, bitch, if I crap out, I'm sure I'm a get-